E' iniziata l'era Mazzarri, è iniziata l'era Mazzarri ed è iniziata come meglio non poteva, con una vittoria, ma soprattutto con una vittoria perfettamente, eccezionalmente, mazzarriana in tutto e per tutto. Fatevi prima salutare, ho l'ermanito, sono il GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette e non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Atalanta-Napoli. 1-2 il Napoli vince contro l'Atalanta, ragazzi il Napoli vince, arriveremo anche nel discorso della tattica, nonostante secondo me debba essere comunque circoscritta a un certo, chiedo scusa mi sta salendo la cena dell'altro ieri, nonostante comunque è difficile parlare di tattica, ragazzi è molto difficile parlare di tattica quando un allenatore è qui da una settimana e mezzo praticamente, la maggior parte dei giocatori li ha visti per due giorni, però si sono visti tanti cambiamenti rispetto a Napoli di Rudi Garcia, partendo dalla cosa più importante che è la verve dei calciatori, ragazzi i giocatori sono con l'allenatore, i calciatori si sentono rappresentati dall'allenatore, come anche io mi sento rappresentato dall'allenatore, Mazzarri che alla fine va, braccia i ragazzi, che ora Schella che gli dà un bacio, Elmas che parla di lui dice che ha fatto un lavoro straordinario, c'è spirito di sacrificio, c'è voglia di vincere le partite, linee compatte, linee strette, voglia di riaggredire, di andare a prendere il pallone alto, tra l'altro è proprio così che siamo riusciti a fare gol, in questo modo abbiamo anche creato quell'azione con 800 tiri alla FIFA, alla FIFA, però che bello ragazzi, oggi mi sono risentito bambino, perché con Mazzarri, già l'ho detto su Instagram, forse l'ho detto anche in qualche video qui su YouTube, mi sento meno analitico, più emotivo, non vivevo le partite del Napoli così da un bel po' di tempo, nel senso dallo scorso anno praticamente, però qualcosa è cambiato, io durante la partita sul 2-1 ho detto metti tutti i difensori, ogni pallone che arrivava speravo che spazzassero, proprio roba old school, oggi mi sono sentito old school, mi sono sentito come se avessi di nuovo 12-13 anni ed ero veramente gasatissimo, ero veramente gasatissimo, ho visto un Napoli, ripeto, diverso, Napoli più aggressivo, Napoli con la voglia di portare a casa la partita, lo spiglio di sacrificio, tutti che tornano dietro, tutti che si aiutano, tutti che vanno per recuperare il pallone, per andare anche a spazzare, questo pallone nel cesso, bastava poco ragazzi, bastava veramente poco, perché di certo con Walter Mazzarri, non parliamo di Pep Guardiola, ma bastava un allenatore che potesse tenere il polso della situazione, un allenatore che sappia mettere questi ragazzi in campo, che sappia gestire i cambi, cambi eccezionali, nonostante i cambi fossero pochi, bene a togliere Zilinski, bene a tenere anche chissà in campo che ha fatto un partitore, nonostante sia arrivato praticamente l'altro ieri, bene a mettere Elmas lì per fare densità, con Poritano che stava soffrendo tanto, ha messo Elmas, che è andato lì per dialogare, oltre al gol che ha deciso ancora una volta ragazzi, Elif Elmas decide Bergamo il 7 con i capelli lunghi, con Mazzarri in panchina, mi ricorda qualcosa, tra l'altro l'anno scorso, gol di testa di un nostro attaccante, Gol di Lukman e poi gol di Elmas su assist di Ossiman, non vorrei dire corsi e ricorsi storici, ma tanta roba, tanta roba ragazzi, mette Elmas per fare un po' di densità lì, per andare a lottare anche fisicamente, per andare a dare una mano anche a Di Lorenzo, che era ammonito, se non mi sbaglio era ammonito di Lorenzo, ma soprattutto con Lukman che stava facendo il bello e il cattivo tempo da quella parte, poi lui è svariato un po' su tutto il fronte Lukman, però è molto bene nella lettura della partita, molto bene nei cambi, entra anche Cajust, giustamente secondo me al posto di Zieninski, secondo me Zieninski è andato forse leggermente prima, perché veramente oggi è giocato quasi contro, quasi giocato contro, si mangia tra l'altro un gol che è lavoroso, lì non devi fare lo scaletto, lì tira, tira, tira una staffilata e basta, sì è vero sei fortissimo, tutto quello che vuoi, ma devi tirare, tira un siluro sul primo palo, cioè Carnesecchi non tiene neanche il tempo di pensarci, però vabbè, ritorno Semen, ritorno Semen, e si vede che è ritornato Semen, ragazzi, mamma mia come è entrato, è entrato come un pazzo, senza mascherina, ridategli la mascherina, ridate la mascherina a Victor Semen, la maschera, la mascherina, assist alla Semen, che fino all'ultimo, che lotta fino all'ultimo, ci mette il pietra da Elmasio, tra l'altro, l'urlo del... non ho neanche esultato sul momento, perché ero convinto al 100% che fosse fuori gioco, non avevo visto che ci fosse un altro uomo, giustamente l'Atalanta era in fase di costruzione dal basso ed erano tutti lì, fortunatamente il gol è stato buono, che bello partire con una vittoria, c'è da dire che ci sono ancora degli errori, tante cose da limare, c'è stato un momento nel secondo tempo in cui l'Atalanta veramente ci infilava quasi con facilità, il Napoli fisicamente è a terra e secondo me pagheremo la preparazione fisica fatta dallo staff di Rudi Garcia, secondo me, perché si vede ragazzi che sono indietro, sono indietro e che veramente boccheggiano, a un certo punto della partita sono pesanti sulle gambe, comunque l'altro gol è Carraschele, lo devo dire, non me l'ho dimenticato, gol di Carraschele, su assist di Lorenzo, gol di testa che non è di certo la specialità della casa, però ha fatto una partita di una grandissima dimensione, venendo molto spesso anche centralmente, portandosi 3-4 uomini fissi addosso, perché è l'unico modo per fermare uno come Cvicia-Cvaraschele, è tanta roba, tanta roba, comunque se male ha giocato Zilinski, in compenso Anguissa, benissimo, e Lobotka finalmente al centro del gioco, finalmente Lobotka, tutti i palloni, come è giusto che sia, passano da Stanislav Lobotka, così deve essere, questo deve essere ragazzi, tutti i palloni devono passare da Stanislav Lobotka, sei in difficoltà, Lobotka non sai che fare, Lobotka partitone di Stan e partitone anche di Pierluigi Collini, che secondo me potrebbe dire la sua su un posto titolare, a me onestamente dà più sicurezza Collini di Merezia, con i piedi ma anche tra i pali, perché Collini ragazzi è un ottimo, ottimo, ottimo portiere, ha fatto una parata oggi veramente di gran livello sul suo palo, sul colpo di testa di chi era di Copminers, no di, non mi ricordo, non mi ricordo, chi era un colpo di testa? Forse Baccher, veramente non ricordo, era un colpo di testa comunque in cui Politano viene completamente mangiato in testa, tra l'altro bisogna sottolineare l'errore di Rachmani, che secondo me non è errore solo di Rachmani sul gol dell'Atalanta, perché lì Lukman sfila, sfila di Lorenzo, fa un bel movimento, Rachmani si fa mangiare in testa anche lui in quel caso, però per il resto ottima partita da parte sua, bene anche a Nathan, bravo Mazzarri secondo me a togliere Nathan per mettere Ostigard con Nathan a Monito, ha fatto un partitone, poi la cosa fondamentale, sembra evidente a tutti quanti che per Mattias Olivera dovrebbe trattarsi di crociato, quindi gli auguriamo tutto il bene di questo mondo, sperando che possa tornare presto in campo, povero Mattias, veramente uscito in lacrime in barella, e niente ragazzi, questo è quanto, questo è quanto, questa è la prima vittoria del Napoli, del nuovo Napoli, di Walter Mazzarri, e sono casato, e sono oggettivamente casato. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche G7Shorts, il mio canale pubblico teleclip, momenti conici, momenti divertenti del canale, tu preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli.